Cari telespettatori, buongiorno. Parliamo di cultura, parliamo di alternative per il tempo libero, per conoscere le realtà stupende che ci sono nel nostro territorio. Parliamo di Ville Venete, ma anche di Castelli. Lo facciamo con il Presidente dell'Associazione Ville Venete Castelli, Giulio Pellemo. Ben arrivato qui con noi, Presidente. Buongiorno, buongiorno. Sembra doveroso, visto che magari c'è periodo delle festività, qualcuno può avere qualche mezza giornata, una giornata libera a disposizione, senza andare chissà dove. dove, anzi, come diceva lei, passeggiando lungo le strade dei nostri comuni, si possono scorgere con un po' di attenzione delle ville straordinarie. È vero, non tutte sono aperte, però ci sono ville che possono essere visitate, possono essere scoperte e soprattutto rivelano un patrimonio straordinario. Che cosa ci può raccontare? Io ho tra l'altro un libro molto interessante che ne illustra, ne fa vedere alcune, tra le più famose. Insomma, molte, peraltro, sono anche adibite a resort, ristoranti, prestigiosi, alberghi, eccetera, per chi ha la fortuna di poter soggiornare in questi luoghi. Però si scopre che moltissimi veneti non conoscono queste realtà. Beh, questo è classico, no, di chi ha il patrimonio sotto i piedi. Cioè, le ville venete, sappiamo, sono 4.328, certificate dall'apposito istituto regionale ville venete, che è stato creato nel 58 appositamente per questo. e con una distribuzione comunque assolutamente trasversale, cioè tutto il Veneto ha le ville venete, praticamente ogni comune ne ha almeno una, alcuni comuni ne hanno anche 30, 40, 50. È una realtà che i veneti stessi non conoscono, ma quello che è più grave è che non lo facciamo conoscere all'estero per stimolare proprio i flussi turistici che ci porterebbero a sviluppo, darebbero la possibilità di mantenere meglio le ville. Se lo facciamo sviluppare oppure no, non lo facciamo sufficientemente? No, non lo facciamo sviluppare, molto poco. Adesso, negli ultimi due anni, la regione ha cominciato a muoversi perché ha capito che le ville venete sono un prodotto turistico molto interessante. Però è da avviare tutto il processo ed è una realtà invece che sta scapitando perché le ville venete, dicevo, sono oltre 4.000, ma di queste sono quasi 600 le ville venete che oggi fanno attività turistica. Non ci sono solo le ville del Palladio, quelle che sono musei visitabili, eccetera, ma ci sono moltissime, sono una settantina di alberghi in villa veneta, anzi alberghi di ottimo livello. Abbiamo 9 alberghi a 5 stelle in villa veneta e gli altri sono praticamente tutti 4 stelle, 4 stelle lusso. Abbiamo bed and breakfast che sono meravigliosi, alcuni molto esclusivi dove si pagano decine di migliaia di euro per soggiornare e poi abbiamo una vastità di ville con saloni affrescati stupendi che sono lo che esce ideale per le aziende, per i loro meeting aziendali, gli incontri e poi non parliamo dei matrimoni che se ne fanno migliaia e migliaia di matrimoni. Ecco, è una realtà pronta per essere venduta, tra virgolette, all'estero, ma dobbiamo muoverci. Proposta, ecco, proposta all'estero perché sennò vendere già si parla di dissipare il patrimonio. Ecco, noi abbiamo messo a punto, ormai è già in operazione, un programma proprio per non perdere la grande occasione che ci sarà offerta dall'Expo 2015. Abbiamo, è già da un anno che lavoriamo in collaborazione stretta con il Comitato Expo Venezia per offrire tutta una serie di itinerari, di eventi, di proposte, compreso il soggiorno nelle ville venete ai 20 milioni e più di visitatori che sono previsti per l'Expo. Cioè, è un oceano che arriva, naturalmente vedrà i padiglioni dell'Expo di Milano ma dopo non tornano a casa, gente che ha affrontato migliaia di chilometri, è chiaro che ne approfitterà per conoscere il bel paese, il nostro territorio. E allora si spalmerà su tutto il nord Italia. Un flusso importantissimo, sicuro, sarà verso Venezia, perché Venezia è desiderata del turismo mondiale. Non solo, ma uno dei padiglioni dell'Expo 2015 sarà costruito a Venezia e si chiama Padiglione Acqua, per cui anche chi viene semplicemente perché è interessato ai padiglioni dell'Expo necessariamente verrà a Venezia. Ecco, noi abbiamo creato tutto questo itinerario, abbiamo raggiunto accordi appunto con il Comitato Expo Venezia, con Confindustria, che è molto interessata ad aiutare l'espansione nel turismo delle ville venete. E da questo poi è nato uno sviluppo ulteriore, splendido, non previsto. I nostri amici, i colleghi delle associazioni, delle dimole storiche, delle altre regioni, si sono subito avvicinati chiedendo di far squadra, perché se è vero che parte di questi 20 milioni arriverà qui nel Veneto per vedere il padiglione Acqua, Venezia e le nostre ville venete, è altrettanto vero che poi andrà a visitare la Lombardia, il Monferrato, i castelli del Piemonte, la Liguria, eccetera. Per cui abbiamo creato di fatto un gruppo, una realtà che si chiama Dimore Storiche Aperte per l'Expo 2015. Aperte cosa vuol dire? Cioè sono aperte nella stessa tipologia nostra, cioè visite, musei, ma anche soggiorno con alberghi, bed and breakfast, agriturismo. Abbiamo moltissime aziende vinicole che fanno vino di ottima qualità. Nel Veneto, tanto per dare una cifra, noi abbiamo 121 ville venete che sono aziende agricole di ottima qualità con dei vini veramente ormai conosciuti in tutto il mondo. Avete un sito? Abbiamo un sito, sì, adesso però... Diciamolo il sito che così intanto magari... Allora, intanto c'è già il sito villevenetecastelli.com www.villevenetecastelli.com Questo è nostro, ma adesso nel giro di 15 giorni sarà completamente rifatto proprio per questa prospettiva. E sempre nel giro di 15-20 giorni si darà alla luce il sito nuovo che si chiama Dimore Storiche per Expo 2015, dove saranno inserite le 5 regioni, Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, molto probabilmente anche la Val d'Aostra, perché i castelli della Val d'Aostra ci hanno già contattato e si vedrà tutto quello che il mondo del patrimonio architettonico del nord Italia potrà offrire ai visitatori dell'Expo. Allo stato attuale, qui ad esempio vedo in questo, nel vostro libro, insomma, dove praticamente ci sono... È uno dei nostri, dei nostri blue school annuali che facciamo. Infatti, proprio per capire la differenza tra l'Istituto delle Ville Venete, regionale Ville Venete e le ville che vengono tutelate, quindi la riviera del Brent e le vostre strutture, che differenza c'è? Sì, spesso si fa confusione. L'Istituto regionale Ville Venete è un ufficio della regione che è nato appositamente per fare il censimento delle Ville Venete e per dare dei finanziamenti per il restauro. Il censimento ormai è finito, per cui il loro lavoro è limitato unicamente ai finanziamenti per il restauro e manutenzione delle ville. Nell'ultimo anno, grazie anche all'attività frizzante della Presidente Fontanella, l'Istituto ha preso anche un indirizzo di aiuto per le visite scolastiche, per il turismo scolastico, insomma. La nostra invece è un'associazione che è nata esclusivamente per aiutare, promuovere e far conoscere le Ville Venete che fanno attività turistici, che offrono servizi turistici, non quelle private, ma quelle che fanno attività turistica. Per cui i musei, che dicevo prima, palladio o non palladio, comunque ville aperte alle visite museali, alberghi in Villa Veneta, ristoranti in Villa Veneta, Bed and Breakfast, agriturismo, centri congressuali, cioè tutte le ville che mettono a disposizione i loro saloni e poi tutta quella marea di ville che si mettono a disposizione per eventi culturali, dove si fanno spettacoli teatrali, danza, musica, incontri conviviali. Ricordiamoci che le ville hanno anche dei parchi meravigliosi che nel periodo estivo sono adatti per fare concerti di vario tipo di musica. Ecco, tutta questa realtà noi la promuoviamo, facciamo attività turistica, la facciamo conoscere in Italia e nel mondo, partecipiamo alle fiere, creiamo rapporti con le aziende per l'utilizzo, perché le aziende ormai hanno imparato a utilizzare queste aziende, perché è molto più caldo, più coinvolgente fare un meeting aziendale tra gli affreschi del Settecento piuttosto che in una sala vetro e cemento delle nuove strutture alberghiere. È sicuramente una cosa che si sta sviluppando sempre di più, le aziende appunto stanno ormai conoscendo bene le ville, le utilizzano per le loro esigenze aziendali, anche per servizi fotografici, fiere di nicchia, presentazioni di prodotti, queste cose qui. Ecco, per esempio, però io vedo qui, non so, Villa La Rotonda, che non è ristorante, non è albergo, non è niente privata, anzi difficilmente accessibile. Sono quasi tutte private, il 98% delle ville. Sì, sì, no, nel senso privata, nel senso proprio privato del termine, che è difficile anche entrare, eccetera. E ci sono anche altre ville menzionate, non tutte quindi sono strutture, diciamo così, che possono essere utilizzate. No, no, ci sono anche semplicemente strutture museali, come appunto La Rotonda, che ormai credo sia il simbolo del palladio nel mondo. Eh, infatti. E devo dire che negli ultimi due anni si sono strutturati bene, cioè nel senso che hanno orari stabiliti, apertura settimanale, per cui i flussi sono decisamente aumentati rispetto a qualche anno fa, quando arrivavano bus e bus di turisti e restavano lì fuori perché la villa era chiusa. Fotografare. La fotografavano solo dall'esterno, ecco, adesso no, invece. Sono strutturati bene. Che risposta viene data, quindi, alla vostra sollecitazione di cercare di far conoscere queste realtà? Quindi quali sono le difficoltà? Dove vi rivolgete? Cosa state facendo? Beh, la difficoltà, credo, anzi, ormai è un dato di fatto, è stata soprattutto indotta dall'ignoranza verso la reale quantità, importanza e bellezza delle ville venete. Adesso si sta facendo cultura e si scopre, appunto, che abbiamo un patrimonio molto, molto superiore a quello che si immaginava e che è un sacrilegio non sfruttarlo. Dicevo che l'amministrazione regionale ormai ha messo a punto alcune linee proprio per promuovere il prodotto turistico ville venete. C'è anche da fare un grosso lavoro di educazione all'interno delle ville venete. Ci sono ancora ville che non hanno capito che è importante fare squadra, mettersi insieme e promuoversi nel mondo. C'è ancora il proprietario della villa che è convinto che basta farsi il sito per avere flussi di turisti a tutte le ore o code di futuri sposi che vengono a chiedere. Cosa che non succede più. Non succede più. Ecco, l'unica è proprio mettersi in fare team, fare rete e soprattutto sfruttare le occasioni importanti come questa dell'Expo 2015 e comunque anche mettersi in un sistema integrato con il territorio perché ricordiamoci che il Veneto è la prima regione turistica d'Italia e comunque a top anche a livello europeo. Perché? Perché abbiamo un'eccellenza in tante cose. Ovviamente metto le ville venete, no sto scherzando, le ville venete a Venezia che è un gioiello unico, le dolomiti che sono ormai riconosciute come patrimonio mondiale dell'UNESCO così come il centro storico di Verona è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Verona, il Garda, Giulietta Romeo, l'Arena, Padova che tanti ignorano che comunque è la città con il maggior flusso turistico d'Europa, religioso, e poi abbiamo il delta del Po, la laguna. Infatti resta menzionato delle realtà, esatto, delle cose straordinarie e invece sì per carità abbiamo dei numeri che possono essere interessanti però siamo bypassati, surclassati abbondantemente da altre realtà europee oppure da piccolissime infinitesime realtà che si trovano in giro per il mondo che alla fine hanno dei flussi molto interessanti perché sanno essere valorizzate. quindi noi torniamo sempre sul solito discorso, non sappiamo valorizzare il patrimonio che abbiamo, non sappiamo portarlo a conoscenza, non sappiamo metterlo a reddito, questa è cultura, fare business della cultura. Gli altri sanno a fare squadra, noi no, noi veneti siamo abituati ancora a promuovere il proprio campanile. Adesso per fortuna la regione ha varato il primo giugno del 2013 la nuova legge quadro sul turismo, la legge regionale 11 che di fatto comincia a obbligare un po' gli operatori a fare squadra. Prima esistevano 14 consorsi di promozione turistica, su 7 province 14 consorsi, adesso invece ci saranno solo i consorsi tematici per cui il consorzio della montagna, delle spiagge, delle ville venete e così. Questo può servire quindi. Ma è indispensabile, io ho fatto, per le mie ville ho fatto centinaia di fiere e incontri con l'operatore e tutti si lamentavano che non c'è una visione complessiva del Veneto, non esiste materiale che promuova turisticamente il Veneto. Bisogna andare nelle singole parti. Sì, sì, è vero. Ma anche alla stessa Bit di Milano, per esempio, ci sono padiglioni sparsi da cui siamo, tra quelle della regione, sì. Il turoparetto che entrano nello stand, nello spazio del Veneto, devono uscire con l'olio pieno di materiale, di treviso. Presa a destra manca. Presa a destra manca, manca. Ecco, noi speriamo che adesso con il nuovo indirizzo della regione ci sia davvero più coscienza da parte delle località turistiche. È indispensabile fare squadra anche per le strutture già con alta vocazione turistica. Noi riusciremo sicuramente a dare un maggior sviluppo e alzare notevolmente il numero degli arrivi e delle presenze se costruiamo delle proposte, degli itinerari che facciano conoscere le zone più famose e quelle meno conosciute che comunque hanno delle particolarità davvero sorprendenti. No, perché sto pensando che molti, vabbè, chi è appassionato di viaggi conosce le destinazioni dei Maraja, in Rajasthan, no? Ed è, vabbè, bello, prestigioso, affascinante, ma anche accessibile, abbastanza accessibile soggiornare e fare tutto il percorso soggiornando in queste dimore straordinarie che si trovano in quel territorio. Ed è un viaggio che è un must a un certo punto per chi deve stare, deve approcciare all'India in un certo, in certi termini, per conoscere una realtà. Poi, d'altra parte, proprio toccando con mano, ho scoperto che non avviene lo stesso da noi, cioè non esiste il percorso delle residenze, eccetera, se non qualcosa di veramente di nicchia, però tra l'altro difficilmente fruibile. Perché? Perché non c'è tutto esaurito assolutamente. Perché è rivolto a un target che non è informato quello che potrebbe farlo o comunque se no è troppo costoso, mentre viceversa, in altre realtà, puoi permetterlo. No, è troppo costoso, non è vero. Ha ragione quando parla di poca informazione, ma è costoso, no? Perché soggiornare in un albergo in Villa Veneta ha lo stesso prezzo di qualsiasi altro albergo, anche moderno, e sicuramente molto inferiore ai prezzi applicati agli alberghi a Venezia. Infatti, ecco, molti turisti oggi vengono a soggiornare nelle nostre ville albergo e per fare poi il salto a Venezia, per visitare Venezia, cioè si fermano da noi quattro o cinque giorni, uno o due giorni gli dedicano comunque la visita a Venezia. Quindi è competitivo il prezzo? Sicuramente, sicuramente. Quindi questo è importante. Bisogna appunto, come dice lei, strutturare dei percorsi di soggiorno. Ovvio che a questo punto c'è il solito discorso del particolarismo che va a prevaricare perché scegliere uno anziché l'altro non è un sistema. No, no, ma noi abbiamo già sopprato questo. Infatti abbiamo già costruito, ma stiamo completando il lavoro, tutta una serie di itinerari che vanno praticamente a coprire tutto il Veneto. per cui diamo un'ampia scelta al flusso turistico. Il nostro compito è quello di aumentarlo sempre di più per cui dare la maggior offerta possibile. E dicevo prima, turismo integrato, cioè noi non offriamo al turista la visita alla Villa Veneta. Ma includiamo la visita alla Villa Veneta in un pacchetto molto ampio dove sono previste le altre eccellenze. Per cui noi abbiniamo alla visita alla Villa Veneta l'escursione nella laguna, nei fiumi, al Garda, eccetera. Abbiamo un sacco di itinerari. Un pacchetto che possa essere interessante. Oppure ai prodotti enogastronomici che sappiamo che oggi enogastronomia e cultura sono i due maggiori fattori di traino. Oppure li abbiniamo anche alla visita al patrimonio archeologico. Organizziamo anche assieme ai numerosi centri di golf che abbiamo dei momenti particolari. Quindi con lo sport. Torniamo su questo discorso, lo interrompo solo un attimo, abbiamo la pubblicità che incombe. Pochi secondi di intervallo e poi torniamo con voi.